Il Comune di Montegorvino Rovella con delibera di giunta ha aderito ufficialmente al piano per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni della campagna. La finalità del progetto varato dalla Regione è favorire il potenziamento delle capacità istituzionali e amministrative delle pubbliche amministrazioni locali attraverso il reclutamento di personale di area D e C da impegnare nell'amministrazione regionale e negli enti locali aderenti. Obiettivo specifico? Selezionare, formare e qualificare con le modalità del concorso corso potenziali dipendenti pubblici da immettere negli organici della Regione Campania e delle amministrazioni locali.